e lui di mangiare mangia anche quando va da solo va e mangia certo quello che può mangiare il piccolino mangiato qualche tre quattro sei lungate e viene che faccina che c'è quando l'ho visto tutto il disastro ma non mi ha detto guarda tu non manca nessuno a me manca non ho mangiato niente oggi niente niente non è vero fa un caldo troppo caldo non mi piacciono ma non è uscito